Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi per parlare dell'anticipo di ieri, ovvero Catanzaro-Palermo Bella partita, sicuramente una partita anche molto equilibrata Mi aspettavo di più di entrambe le squadre perché poi ovviamente ti rimporta ragazzi Ne ricordo pochissimi se non i due gol e forse il palo che ha preso il giocatore del Catanzaro Che stava per farsi autogol Ma per il resto è veramente una partita molto equilibrata Con, secondo me ha prevalso più la voglia, la paura di perderla E quindi entrambe magari sono poi accontentate di un pareggio Ne parliamo in questo nuovo video, mi raccomando però Prima di partire con l'analisi vi doi chiedere un pollicione su qua sotto 30, 40, 50 mi piace per supportare i miei contenuti Un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi Mi raccomando iscrivetevi, questo è un canale che parla solo e unicamente di Serie B E noi partiamo subito Partiamo col dirvi che raccontare un po' la partita Perché la sblocca Tommaso Biasci al 29esimo Su uno sviluppo da Cross Situm, Cross Sascogna Miglio La cicca un po', palla che rimane lì Arriva Biasci da attaccante vero E mette in porta il pallone dell'1-0 Un po' un gol anonimo Non da Catanzaro, abbiamo sempre visto fare il Catanzaro Gol spettacolari, gol manovrati Gol d'azioni sempre ben strutturate Ci sta anche che la squadra di Vivarini possa segnare in questo tipo di situazioni E comunque avere un'arma in più Se sei un bel rapace d'aria qua in queste palle Che rimangono lì mezzo e mezzo in area di rigore E sicuramente anche questo è un segnale positivo per Vivarini Che si porta a casa comunque un punto che può essere importante Visto un po' l'ultimo periodo caratterizzato da 5 sconfitte Nelle ultime sei con una sola vittoria E quindi comunque pareggiare in casa contro il Rosanero E' sempre pur un buon risultato Il Rosanero che rispondono ragazzi Soprattutto nel secondo tempo in avvio Col cross di Mariano e col colpo di testa in inserimento Ancora targato Jacopo Segre E' il sesto gol di testa per il ragazzo se non sbaglio In questo campionato Un giocatore importante Un giocatore imprescindibile negli sviluppi tattici e tecnici Dell'allenatore ragazzi Eugenio Corini Sottolineo il secondo assist stagionale di Di Mariano Per me è un giocatore che può e deve fare assolutamente di più Non basta fare solo due assist in 22 partite se non sbaglio In questa serie B E per questo mi aspetto tanto di più da un ragazzo Che su cui il Palermo comunque l'anno scorso Ci ha puntato molto e investito su di lui Per l'appunto gli Segre pareggia E poi al 51esimo c'è questa occasione Su questo cross basso di Ranocchia Che ha fatto secondo me un'ottima partita Da quando ragazzi E da quando Corini l'ha messo il titolare Ha fatto veramente un'ottima partita Fa questa bellissima progressione Palla al piede Palla che viene messa in mezzo Rasoterra Lo anticipa Anticipa un giocatore del Catanzaro L'attaccante del Palermo Palla che finisce sul palo Per pochissimo I Rosa Nero Non la ribaltavano Nell'arco di tre minuti Perché al 48esimo Ha fatto il gol dell'1-1 Il 51esimo Per il 51esimo Il 52esimo Ha avuto l'occasione Di fare il gol del 2-1 Questa è stata l'unica vera grande occasione Della partita Per ribaltarla Per il Rosa Nero Che poi ci hanno provato un po' Con un tiro di Ragazzi di Francesco No di Insigne Di punta Più o meno Tiro di punta E' parato poi centrale Dopo un'ottima progressione Ma per il resto Veramente pochissime altre occasioni Da gol E' un punto che ripeto Ribadisco Può andare bene Al Catanzaro Visto il periodo che viveva Per me per il Palermo Questa dovesse una partita In cui doveva mandare un segnale Doveva cercare di raccogliere La seconda vita consecutiva E soprattutto Vincere uno sconto diretto Cosa che non è riuscita a fare La squadra di Eugenio Corini Perché adesso E nelle ultime 5 partite Ha raccolto La bellezza di 8 punti Sesto posto in classifica Quota 36 punti Considerando che Nessuno la può superare Perché il Catanzaro è settimo Quota 34 L'hanno giocato ieri E comunque Dobbiamo fare una proiezione Perché il Palermo Ad oggi E' a meno 3 punti Lo secondo posto Ma ricordando che il Como Deve giocare Quindi teoricamente Potrebbe allungarsi A più 6 La squadra di Roberts E quindi Potrebbe allontanarsi Ulteriormente Anche questa giornata L'obiettivo Promozione diretta Per la squadra di Corini Che se vuole Veramente puntare A quel tipo di obiettivo Deve vincere Questo tipo Di partite Per il Catanzaro Secondo me Questo girone di ritorno Deve essere un girone di ritorno In cui deve capire La dimensione Che può raccogliere In questo campionato Perché ha fatto Un girone di andata Sicuramente Straordinario Sicuramente Sopra le aspettative Ma ricordiamo Che il Catanzaro È stato costruito Per raggiungere Una salvezza tranquilla Ed è per questo Che la squadra Di Vivarini Deve fare un girone di ritorno Equilibrato Senza troppi alti Ma senza neanche Avere troppi bassi Cosa che ha avuto Un po' Verso fine Girone di andata Ed è per questo Che se una volta Arrivato A fine campionato Arrivato Ottavo Settimo E raggiunto Per l'appunto I playoff Credo che poi Vada fatto solo Un applauso Alla squadra E all'allenatore Per il lavoro fatto Perché il Catanzaro I playoff Comunque sarebbe Un grandissimo Sarebbe un grande Obiettivo raggiunto E sarebbe comunque Una piacevole sorpresa Vedere poi la squadra Di Vivarini Giocarsi Lo spareggio playoff Per qualcosa di grandissimo Ovvero la promozione In sera Poi sappiamo che I playoff sono una lotteria E tutte le squadre Che partecipano Possono vincerlo Se giocano Un buon calcio Se ovviamente Anche la fortuna E un pizzico Dalla parte loro Per l'appunto Ripeto Riva disco Che per il rosa nero Era una partita Che doveva vincere Anche se giocava in trasferta Per dare un segnale Per dare un segnale Dire che loro possono lottare Fino all'ultimo Per il secondo posto In questo pareggio Non dico che si taglia fuori Dalla lotta A promozione diretta Questo assolutamente no Perché il campionato è lungo Perché comunque davanti Possono perdere punti Però se oggi il Como vince Va a più 6 E poi se punti a recuperare Comunque non sono pochi Considerando che davanti Non è solo il Como Ma è anche la Cremonese A 38 Il Venezia a 38 E il Cittadella A pari punti Conte a 36 La prossima giornata Che affrontano Entrambe le squadre Il Palermo ragazzi Avrà un altro Sconto diretto Importante Perché giocherà In casa Il Barbera Venerdì 2 febbraio Ore 20 e 30 Contro il Bari E lì capiremo ancora tanto Dalla squadra di Corini Obbligata Secondo me A vincere Per tanti fattori Il Catanzaro Giocherà in trasferta Alla Spezia Contro Però appunto Lo Spezia Può essere una partita Sulla carta facile Perché lo Spezia Fa una linea di coda Quota a 17 punti Aspettando la partita Che giocherà quest'oggi Però per il Catanzaro Un bel test Per capire Anche a livello mentale Come possono approcciare Determina una determinata partita Così delicata Comunque contro una squadra Ricordiamo Che ha necessità Di fare punti Contro qualsiasi avversario Quando ti ritrovi Nel giorno di ritorno A giocare Contro squadre Che devono salvarsi Soprattutto se vai a giocare In trasferta Sono partite Difficili Da vincere Perché l'altra squadra Si gioca tutta la vita L'altra squadra È obbligata A fare punti E quindi Puoi sempre Incappare In partite Che poi possono Avere esiti Negativi Se non le affronti Con la giusta mentalità E con la giusta Determinazione Con la giusta Consapevolezza Dei propri mezzi Tecnici E per questo Che il Catanzaro Settimana prossima Ha un bel test Poi aspettiamo Ovviamente Cosa farò lo Spezia Perché lo Spezia Dovesse vincere oggi A Pisa Sicuramente potrebbe arrivare Con un morale migliore E quindi potrebbe essere Ulteriormente più difficile La partita Per la squadra Di Vincenzo Di Varini Fatemi sapere alla vostra Qui sotto con un commento Cosa ne è impiesa Di questa mia analisi Sul Palermo Sul Catanzaro Sul momento Che vivono entrambe le squadre E mi raccomando Vi aspetto anche Non oggi Ma sicuramente domani mattina Con la zona caffè Di Serie B Dove parliamo di tutte le squadre A parte Cittodella Sampdoria Che si giocherà domani Per l'appunto Ore 16 e 15 Ma oggi si giocano Tutte le altre partite E se riesco Domani mattina Vi pubblico Il video della zona caffè Pollicione sul video Iscrizione al canale Noi ci becchiamo A un prossimo contenuto Bella ragazzi Noi ci becchi Grazie.